Un processo per omicidio con tanto di pubblico ministero e difensori, come se la causa si stesse realmente celebrando e sul banco degli imputati sedesse davvero un presunto colpevole. All'Università di Teramo gli studenti della classe terza C del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo hanno simulato un processo penale sotto la guida degli avvocati della Commissione Progetti Legalità dell'Ordine Forense della provincia. Questa iniziativa fa parte di un programma, di un protocollo stipulato fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale Forense. Abbiamo scelto una classe del liceo delfico, del liceo classico, l'abbiamo seguita per tre anni, questo è il terzo anno, nell'ambito appunto di questa sensibilizzazione degli studenti alle professioni forensi, quindi non solo quella di avvocato ma anche quella di magistrato e di operatore del diritto. La simulazione del processo costituisce il momento conclusivo del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento attivato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, in collaborazione con liceo delfico e che ha visto come referente l'avvocata Giulia Forlini. Abbiamo fatto delle lezioni teoriche, però abbiamo deciso di concludere questo percorso di due anni con un'attività pratica, proprio perché parliamo di formazione, quindi abbiamo voluto far confrontare gli studenti con un vero e proprio processo, abbiamo simulato un processo, prima li abbiamo portati in tribunale ad assistere ad un'udienza penale, ed oggi loro si confronteranno proprio direttamente con un processo penale, parliamo di una fattispecie di omicidio, loro hanno dovuto studiare le carte, proprio come si fa in un vero processo, e quindi dovranno adesso cimentarsi proprio nei vari ruoli, un gruppetto assumerà il ruolo della difesa, un altro gruppo farà pubblico ministero e parte civile, e poi ci sono otto ragazzi che ricopriranno la carica di giudici, quindi faranno la parte della Corte d'Assise. Al finto processo per omicidio, protagonisti anche due magistrati del Tribunale Teramano, Flavio Conciatori e Laura Colica, che hanno offerto il loro contributo all'iniziativa formativa. Il valore è quello di affiancarsi alla didattica tradizionale, per far entrare i ragazzi in prima linea, per prendere il nostro posto e capire se questo tipo di realtà può essere per loro interessante, per il prosiegue oppure no. Ma questa è solo una delle iniziative, perché l'Ordine Forense di Teramo ad aprile parteciperà anche all'ormai celebre torneo della disputa, un evento nazionale a cui sono iscritti circa 1.500 studenti appartenenti a 37 scuole secondarie italiane. Dopo questo progetto sono convinto che c'è più consapevolezza nell'impegno che c'è nella costruzione della società civile, basata sulla Costituzione e sui codici che oltre a tutelare l'individuo, tutelano anche quella che è la comunità. Da lì si passa al noi.